Un SMS mai arrivato ha causato l'uccisione di Pasquale Romano, l'operaio trentenne di Cardito ucciso per errore da un commando della Camorra a Marianella il 15 ottobre scorso. Secondo quanto appreso dagli inquirenti, i killer non aspettarono un messaggio e per questo uccisero la persona sbagliata, cioè Pasquale Romano. Una donna che era nel palazzo della fidanzata di Romano avrebbe dovuto avvertire i killer quando il loro obiettivo stava per uscire, ma i malviventi non attesero l'SMS e uccisero per errore il ragazzo. L'inchiesta della direzione distrettuale antimafia ha avuto una svolta lo scorso venerdì notte quando la donna che avrebbe dovuto inviare il messaggio ai killer sull'uscita dal palazzo del vero obiettivo si è presentata al commissariato di polizia di Scampia manifestando la volontà di collaborare. La donna era presente a una cena alla quale partecipava il vero obiettivo dei killer, Domenico Gargiulo. La cena si stava svolgendo nel palazzo in cui abita la fidanzata di Pasquale Romano, stabile davanti al quale poi l'operaio fu ucciso. La donna ha riferito agli inquirenti che informò Giovanni Marino, il giovane fermato ieri dai carabinieri, autista della macchina che guidò il commando, e il complice dell'arrivo di Gargiulo, ma che si udirono gli spari prima che la cena terminasse e che lei avesse avuto il tempo di mandare il messaggio per avvertire che il vero obiettivo stava uscendo dallo stabile.